Ciao ragazzi, mi vedete rosso? Benvenuti in questo video, io sono Alex54 e oggi non porterò GTA per vari motivi, intanto iscrivetevi al canale e mettete la campagna per non perdere nessun altro video, e seconda cosa è anche perché nella mia città c'è il tempo unito, la connessione come ho detto nel video Amazon Icodotto, che ho fatto la licensione anche lì, se non l'avete visto andate a vedere il video nuovo non potrò scusatemi il wifi è nella mia cameretta, la distanza della mia cameretta alla Playstation è molta, quindi se non è il tempo bello la connessione non arriva col tempo bello è potente da usare GTA 5 online chi ce l'ha sa che occupa molto, nel senso ci vuole molta connessione, quindi deve fare quello che deve fare, sta iniziando il programma del wrestling il Bump lo sto appena vedendo eccolo e quindi ecco mi porterò questo qua ecco stanno annunciando il morning in the bank evento che porterò la live reaction al mio canale quindi il video finisce qui iscrivetevi al canale l'ho già detto iscrivetevi anche al canale di Vincenzo Cimera e Lucia e Simone saluto a Cosimo mio grande ho fatto anche il video il mio aiutante grande amico e ci vediamo in un prossimo video che farò sempre oggi ciao 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 ciao